Buongiorno, ecco che piano piano andiamo a ritrovare tutte le tartarughe che si svegliano. Andiamo ad osservare questa. Allora, eccola qua, bella sveglia, con dei belli occhietti. Questo è un bel maschio, un bellissimo esemplare maschio di tartaruga armanni. Che noi andiamo a mettere subito il sole. Eccoti qua. Magari avrà voglia anche di mangiare qualche bella erbetta. Eh, o forse dovrà riscaldare un po' il suo metabolismo. Vedete, è ancora molto lento per mangiare. Però invece qui abbiamo una tarta rovina che invece si è già riscaldata al sole. E quindi non perde occasione per mangiare le prime erbette che trova. Allora, ecco qua. Grazie. 服 Grazie a tutti Grazie a tutti Buona giornata cari amici Ci vediamo presto al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti